Ehi, cazzo! Devono decidersi a darci a scopo! In fondo, votiamo anche noi! Votiamo, no? Arti? Ah! Arti? Che fine hai fatto? Arti? Arti? Arti... Per mille! Sputi! Ah! Attento, sono contagioso! Oh, mi povestito! Oh, no! Oh, mi povestito! Non mi dalle! Oh, non mi dalle! Perché non diamo una bella scaldatina?